Dagli abusi nel mondo del lavoro allo sfruttamento sessuale. Si chiama schiavitù moderna ed è una fiorente industria del crimine nel Regno Unito, con migliaia di persone sottoposte al quotidiano ricatto di caporali e nuovi padroni del terzo millennio. L'anno scorso sono stati identificati 10.600 presunti moderni schiavi qui nel Regno Unito, un record, dice il nostro corrispondente, una crescita di più del 50% rispetto al 2018, lo sfruttamento dei lavoratori è stata la più comune forma di abuso. Molte delle vittime arrivano dal Regno Unito, dall'Albania e dal Vietnam. L'accettazione di condizioni capestro è l'unica via di salvezza per queste persone, spesso immigrati irregolari che non possono ottenere un lavoro alla luce del sole. E la crisi scatenata dall'emergenza Covid-19 rischia di aggravare la loro condizione, come denuncia Ella Reed dell'organizzazione caritatevole Hestia. Con la riapertura delle aziende pensiamo che inizieranno di nuovo a crescere i numeri di coloro che vengono sfruttati. Il rischio è potenzialmente più alto ora, perché gli imprenditori potrebbero avere meno soldi per salari e così via. Hestia ha appena aperto una sede per accogliere i sopravvissuti alla tratta di esseri umani. Reed non pensa che le restrizioni ai viaggi per il coronavirus abbiano fermato i trafficanti. Purtroppo troveranno nuovi modi creativi per spostare le persone fra altri paesi o per portarle nel Regno Unito stesso, ma anche per i cittadini britannici il rischio potrebbe aumentare. La Gran Bretagna ha intensificato gli sforzi per contrastare queste schiavitù, ma la critica dominante è che la nuova legge introdotta nel 2015, il Modern Slavery Act, rimanga ancora troppo inapplicata. Nancy è riuscita a liberarsi dei suoi padroni e oggi aiuta chi sta vivendo condizioni simili alla sua. Sottolinea l'urgenza di regolarizzare le persone entrate illegalmente nel paese. Aiuterà i sopravvissuti a ricostruire le loro vite perché avere uno status legale è l'inizio della libertà. Senza di esso si trovano in una posizione ancora più vulnerabile e ripiombano in condizioni di nuovo sfruttamento. Anmes Desai, politico del partito laborista, ha studiato molto il fenomeno e conferma la necessità di perseguire maggiormente gli schiavisti. Sono state avviate pochissime azioni penali nell'ambito del Modern Slavery Act. È stato fatto un bel po', ma è necessario fare molto di più. La pandemia sta mettendo a dura prova l'economia dei paesi. L'appello ai governi è di non dimenticare gli ultimi, i più fragili, anche in questo momento difficile.